I miei genitori non volevano che lo praticassi, pensavano fosse pericoloso. Con nonno guardavamo i film di Karate Kid, Bruce Lee. Sono sempre stata una bambina molto agitata, non stavo mai ferma. Nella palestra era un momento di libertà assoluta. Mi ha fatto trovare un equilibrio nello studio, nel rapporto con i miei genitori. Sono stata presa in giro molti anni. Venivo pulizzata a scuola. Mi ha insegnato che cos'è il rispetto per me stessa, l'autostima che da piccola non avevo. È un'arte di difesa, non di attacco. E se qualcuno ti aggredisce, allora sai che cosa fare. La palestra per me è una casa. È un posto dove ti sfoghi e libri la mente. Prima di salire sul tatam mi chiudo gli occhi. Mi sento travolta da tantissime emozioni. È un momento di liberazione, dove sfogo tutta la mia rabbia. Ti metti a letto soddisfatto, dici, ho dato tu me stesso oggi. Con noi stessi è una lotta continua. Tante volte partiamo già con l'idea, non ce la faccio. Lì hai già perso. Il bravo tecnico è quello che ti ispira. Ti fa crescere un fuoco dentro. Mi insegna a fare le mosse, le cadute. Quando c'è da scherzare si scherza, ma quando c'è da lavorare si lavora. L'avversario è un amico che appena perde un combattimento piange esattamente come me. Basta un errore e posso perdere. Devi essere preciso, forte, potente e veloce. Non è la fine del mondo se perdi. Anche perdere è insegnamento. Il giudato mi dà la forza e la sicurezza. Il karate mi aiuta a superare i miei limiti. La lotta è sport, lo sport è arte. Non mollerà mai. Amici di Barrus, buongiorno. Siamo qui al parco a Bostella a Salerno, una splendida condizione, veramente straordinaria. C'è aria pulita, ordinata e siamo qui insieme ad Antonio Bracciante, che è il presidente della FIGICAM Campania. Al quale voglio chiedere delle cose che secondo me sono importantissime e che tutti quanti voi, cari telespettatori, dovreste sapere. Noi usciamo fuori da questo, insomma, diciamo usciamo fuori. Stiamo uscendo da questo momento terribile, soprattutto per lo sport, che ha visto veramente tante discipline sportive soffrire per questa situazione. Siamo all'inizio di settembre, si riapriranno le scuole, che è un momento fondamentale per l'organizzazione familiare, perché scuola e sport in genere vanno messe insieme. E chi meglio di Antonio Bracciante, che come dicevo è il presidente della FIGICAM, ci può indicare un po' lo stato dell'arte delle nostre discipline, quindi del judo, del karate, del jiu-jitsu e di tutto quello che noi gestiamo. Innanzitutto voglio salutare tutti gli sportivi, tutti gli sport, in particolare i cosiddetti sport minori, che è proprio brutta questa parola, ma va bene. E che poi, come tutti dicono, sono gli sport migliori. Niente, praticamente la ripresa, la ripresa sarà dura, sarà durissima, anche se, però, questo vale ovviamente per tutti, ma noi abbiamo tanta tanta volontà. Lo abbiamo dimostrato in qualsiasi momento, lo stiamo dimostrando già stando, tra virgolette, all'impiedi, già perché sono due anni che stiamo soffrendo questa situazione. Riprenderanno le scuole, quindi avremo l'opportunità che tante palestre scolastiche anche vengano messe, verranno messe a disposizione di nuovo delle tante associazioni che ne hanno praticamente bisogno, dove, come me, manco a farla apposta, come la mia associazione, non come me, lavora da oltre 30 anni in una palestra scolastica. Infatti l'amministrazione si sta dando tanto da fare per far sì che le scuole riaprino. Ovviamente ci saranno delle restrizioni, restrizioni secondo me giuste, perché comunque nel bene di tutti e nel bene della collettività e dei ragazzi. Quindi dobbiamo superare il momento del Green Pass, anche se dobbiamo tenere conto che fino a 12 anni, per quanto riguarda i ragazzi, non c'è bisogno di Green Pass, ma io comunque alla fine faccio un appello a chi è operatore e ai genitori che facciano molta attenzione, perché nel bene proprio degli stessi ragazzi. Questo è stato un momento particolare, anche perché l'assenza dei ragazzi dalle nostre associazioni, dalle palestre, giustamente come ha detto il Presidente, molti di noi operano nelle palestre scolastiche, e conoscendo anche la situazione burocratica di queste sarà difficile, sarà un cammino lungo poter rientrare di nuovo in queste palestre, perché gli inghippi burocratici comunque usciranno fuori sicuramente. Prima si parlava insieme al Presidente che è stato fatto uno studio statistico per quanto riguarda la situazione della partecipazione dei ragazzi, dei giovani all'interno delle palestre. Ecco, vorrei chiedere al Presidente Bracciante la situazione, attraverso gli studi scientifici che sono stati fatti sul piano statistico. Sì, infatti, infatti al di là delle notizie che ci arrivano dal mondo dello sport in generale, anche io come comitato regionale, insieme ai settori, abbiamo tra virgolette commissionato questo studio statistico. C'è stato dall'anno 2019 al 2020, c'è stata una flessione, parlo di noi come comitato, non esagerata, però attorno al 10-15%. La mia paura, detto molto onestamente, è quest'anno prossimo, quindi con i nuovi tesseramenti, le nuove affiliazioni. È qua che noi dobbiamo essere forti, dobbiamo stare vicino, a cominciare da noi come dirigenti di settore, come federazione. E spero che davvero la politica, a cominciare da quella che sta su, poi a scendere con la regione, con i comuni, con le province, eccetera, sia vicino a queste società, a queste associazioni. Associazioni, soprattutto quelle più piccole, quelle che operano proprio, come poco anzi si diceva, nelle scuole. Perché nelle scuole c'è più difficoltà. In effetti la burocrazia, come dicevi tu, maestro, purtroppo ci frenerà un pochino tanto. Ma bisogna essere intelligenti, bisogna combattere. Noi siamo dei combattenti e dimostreremo ancora una volta che risorgeremo davvero da questo problema serio ed importante. Tanto è vero, lo dimostra che stiamo partecipando anche a livello internazionale con i nostri agonisti che non si sono mai fermati, con tutte le cautele del caso, ai vari campionati. Non a caso il judo fresco dall'uscita dell'osseggio internazionale di Lignano, con la nazionale, con i nostri rappresentanti campani. Adesso andranno all'Europeo Junior. Siamo usciti dalle Olimpiadi con le medaglie. Siamo usciti con le note medaglie, che voi sapete ben tutti, con il judo con Maria Centracchio, di Odette Giuffrida, dei Karatega, Busà, eccetera. Quindi anche della lotta, ovviamente. La nostra federazione sta sugli scudi, non aspetta. Però io, da dirigente periferico, aspetto un aiuto, una mano e soprattutto l'aspetto che venga dato alle tante associazioni nelle periferie. C'è bisogno. Soprattutto non ignoriamo i sacrifici che fanno queste persone. Giustamente quello che ha detto il Presidente è esattamente la verità. Noi abbiamo veramente delle battaglie forti da condurre. Noi siamo lottatori. Vinceremo, sono sicuro, perché abbiamo combattuto e vinto battaglie anche più difficili. La cosa importante è che i combattenti, cioè i maestri, gli addetti ai lavori, si rendano conto che qualcosa è cambiato, che qualcosa di nuovo è nato. A volte dalle tragedie ercono fuori aspetti positivi che, se presi bene, se sfruttati bene, possono dare aspetti veramente positivi. È un invito ed è sicuramente un impegno che il Presidente del Comitato Regionale Campano assumerà nel stimolare a tutti gli insegnanti tecnici, a tutti quelli preposti alle conduzioni delle palestre, di avere una maggiore attenzione sul piano culturale, sul piano associativo, sul piano della solidarietà. Le nostre palestre devono diventare dei centri di accoglienza solidari. Questo credo sia uno degli aspetti che bisogna curare. Non più il luogo dove si va a fare la lotta e finisce lì. No, si dovrà fare anche la lotta perché il nostro è uno sport di combattimento, uno sport agonistico, olimpico, ma deve essere soprattutto, visto l'utenza che abbiamo, adesso i ragazzi che vengono in palestra hanno quattro anni. Noi dobbiamo essere capaci di veramente, di essere un supporto educativo per le famiglie. Le famiglie chiedono a tutti quanti noi un aiuto sul piano dell'educazione, sia fisica che psichica. Io credo che il Presidente sia completamente d'accordo su questa cosa, conoscendolo da anni e soprattutto conoscendo il suo indirizzo culturale. Assolutamente d'accordo. È ovvio che noi siamo dei combattenti e lo dimostreremo ancora una volta. Come hai detto tu, noi usciamo da questa situazione che non ha fatto nient'altro che riformarci su un altro lato che non conoscevamo. Abbiamo vissuto, spero che veramente ce la lasciamo alle spalle totalmente, questa guerra. È una guerra che vinceremo proprio alla grande. Però voglio anche ricordare una cosa, voglio ricordare che la nostra federazione, il comitato, i settori, i maestri, stanno facendo approfondimenti su questa guerra, proprio per vingerla, corsi di aggiornamento sul Covid, di come si bisogna comportarsi in palestra, sull'adeguamento delle strutture. Quindi questo lo dico innanzitutto per quei genitori che ancora oggi hanno un piccolo dubbio di portare il ragazzo o quei ragazzi che non sono ancora confinti di venire in palestra. State tranquilli perché nel nostro interesse, nel vostro interesse, per far sì che tutto questo venga superato. Questo ve lo assicuro. Abbiamo fatto dei corsi, abbiamo dei responsabili Covid a livello regionale, nazionale. Non stiamo alla finestra, tanto è vero che siamo la federazione, non una delle federazioni quantità. Noi siamo la federazione e ci tengo a dire. Un'altra cosa che ho tralasciato volutamente, parlando delle Olimpiadi, perché ne voglio parlare a parte, delle Paralimpiadi. Noi abbiamo avuto l'onore di avere Matilde Lauria a partecipare come federazione a questa grossa competizione, manco farla apposta, un allievo, un allieva del maestro che mi sta intervistando, il maestro Muscarello. E sinceramente io su certe cose non sono, lo dico apertamente, senza alcun problema, perché io sono fatto così. Non sono d'accordo perché ci sono state, spero che in corso d'opera adesso verranno aggiustate, ma ci sono state due pese e due misure. C'è il fatto che devono partecipare con una manifestazione a parte, io non sono assolutamente d'accordo. Poi dopo ci dobbiamo impegnare noi perché loro non sono diversi, loro sono migliori, mettetevelo in testa, sono migliori di noi. Loro ci fanno vedere qual è la vita, il sapore della vita, ce lo fanno vedere. Ci hanno dato anche una lezione a livello italiano, 69 medaglie. Non parliamo poi, non entriamo nei contributi che dovrebbero avere, che sono meno della metà di quello che hanno i cosiddetti noi, i cosiddetti normali, normodotati. No, allora noi dobbiamo innanzitutto chiedere scusa a queste persone. E lo sport tutto si deve mobilitare per dire noi siamo lo sport tutto quanto insieme, perché lo sport ci deve insegnare che non siamo diversi. Poi dopo facciamo le manifestazioni e diciamo loro qua e loro là. Dobbiamo stare attenti, recuperiamo anche su questo, oltre che sul Covid. In conclusione voglio approfittare di quello che ha detto il Presidente. Il Presidente ha parlato di normalità, intanto bisogna capire chi è che dà la patente di normale o no. Io conduco un corso per i ciechi, da questo corso è nata Matilde Lauria, che è andata alle Paralimpiadi. Ho avuto anche, e ho ragazzi con la sindrome di Down. Quando mi hanno chiesto qualcuno, maestro, ma che metodo usa? Io ho detto io non uso nessun metodo, io li tratto come gli altri. Ed è l'unico sistema per integrare queste persone, perché i cosiddetti normali non vedono nessuna differenza nel comportamento. La stessa cosa per chi invece ha problemi, non si sente escluso dagli altri. Quindi, niente, ha detto bene il Presidente, tutti insieme, tutti insieme, perché noi, cosiddetti normali, abbiamo soltanto da apprendere da queste persone. E siamo giunti alla conclusione di questa nostra intervista al Presidente Bracciante, che ricordo ancora una volta è il Presidente della Ficicam Campania. Allora, Presidente, un appello finale alle famiglie che possano in qualche modo essere tranquillizzati da portare di nuovo nelle palestre di judo, di karate, di lotta, insomma, in tutte le palestre, i propri figli. Innanzitutto, io prima dell'appello voglio ringraziare i Vice Presidenti di settore, il Maestro Disanto, il Maestro Mirabella, il Maestro Esposito della lotta, quindi karate, lotta, i fiduciari del Jiu Jitsu Pasquale Stanzione, quelli dell'Aikido Desiderio, dell'MGA Di Maio, perché mi stanno dando una mano immensa e tutti insieme siamo il comitato. Voglio ringraziare e fare un in bocca al lupo a tutte le associazioni, come già ho fatto con una mia missiva che ho inviato, veramente un in bocca al lupo a tutte le associazioni per far sì che vada tutto bene. In ogni caso, noi tutto quello che possiamo fare siamo completamente a disposizione a partire dai responsabili di settore. Ovviamente io in prima battuta ci sono e dico a tutti i genitori, a tutti gli atleti, vinciamo insieme questa battaglia. Una cosa che non ci deve prendere è la paura, perché non esiste. Credetemi, siamo pronti a qualsiasi livello, noi siamo lo sport, siamo la vita, siamo la salute. Un abbraccio a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.